ciao a tutti e bentornati nel mio canale oggi vi faccio vedere come ricarico il banco di caramelle iniziamo dalle more e lamponi anche dette in gergo comune more e lamponi altrimenti si chiamano non pareil a voi piacciono le more e lamponi? beh adesso vi faccio vedere un'altra cosa molto sfiziosa e rara gli orsetti gommosi enormi formato XXL ma voi li avevate mai visti? e che facciamo ci mettiamo quelli XXL ma quelli piccolini no? e dai ricarichiamo un po' di orsetti piccolini una bella mescolata e via tutto pronto possiamo passare ai gessetti di liquirizia menta e liquirizia aromatizzati alla vaniglia ragazzi ma chi è che non piacciono le uova? le gelatine guardate le gelatine come sono belle queste sono un succo di frutta e vai va un po' di rumore ASMR non ce lo mettiamo? nel frattempo che sentite questo rumore ASMR lasciate un like se vi piace ok e le uova? ma che vogliamo dire alle uova dell'Aribo? le migliori secondo me no non sto facendo pubblicità però sono le mie preferite e vai va a cascata guarda la uova si ragazzi lo so le uova dell'Aribo escono in busta un po' appallottolate ma basta modellarle un po' con le mani e il gioco è fatto guardate guardate com'è facile guarda come si bricelano tra di loro guarda guarda là che bontà fantastiche ma che meraviglia ragazzi ma che meraviglia quanto mi rilassa modellare le uova e le pesche un po' di pesca la frutta fa bene un po' di pesca frizzantina ci sta e l'anguria mamma mia l'anguria ragazzi che ricordo mi ricordo quando andavo a scuola e le mangiavo ragazzi lasciate un like se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale alla prossima